Abbiamo fino alle 18 Me sono già le 9 E non c'è un cazzo di parcheggio Il primo che si toglie la mascherina ce lo soffoco Questo è il modello a norma per Halloween Pratico e per niente razzista Ok, forse... Forse è un attimino razzista in effetti Ma non siamo più di 6 Sì, ma tanto andiamo all'autogrill Ci facciamo un camoglio Oh, marda Fanculo, mi si appannano gli occhiali Non potevi comprare quelle normali? Sono normali Sono dei sacchetti, cazzo Senti, io la molta non la voglio Quindi ti tieni il sacchetto E se invece ci facciamo una pizza a casa mia? Tanto il mio figlio... Non mi piace la pizza Che hai detto? Sei un mostro Dai, ragazzi Abbiamo 30 anni, cazzo Metti caso di fare dolcetto a scherzetto, ok? Hai la maschera ma la voce da boscaiolo rimane lo stesso Sì, è vero Quanto è vero? Gente, ho rotto la mascherina Qualcuno ha una mascherina extra? No, nessuno ha una mascherina extra Stavo solo chiedendo Gente, sono già le 10 Eh, basta, cazzo Se non vi andava bene Lo scrivevate ieri sul gruppo, Cristo A me puzza l'olito qua dentro Col cazzo che mi sniffo cipolla Per le prossime due ore Ma vaffanculo, idioti Me ne vado a casa Non mi beccherò il covi del cazzo Per quattro coglioni Che non si lavano i denti Dopo il che va con cipolla Io ve lo dicevo Prendilo senza Che poi stegni un cavallo Io me ne vado Tisanina detox e aletto Sentite Io a casa non ci torno, ok? Quindi prendete l'uscita della tangenziale E ci vediamo in autogrill Aspetta, non ho capito Mascherina o no? Facciamo così Che non si capisce un cazzo Andiamo là senza, ok? Marcheggiamo ed entriamo con Una pollo e stiamo lì fino all'alba O se no Proposta finale Filmino sul divano Ognuno a casa sua Just Eat E vaffanculo Fermi tutti Io voglio bere Ma fa freddo fuori Quindi? È già un valido motivo Che palle! Oggi era sabato Ero carico cazzo Voi eravate carichi E adesso? La serata era a cavallo per tutti Vecchi dentro! Ti è piaciuto? Sì sì Il video è carino E poi No Ti è piaciuto? Certo mi è piaciuto Ho detto che Bene Iscriviti adesso E seguili su Instagram subito Dai Su serio Supportateli Seguiteli Non so perché siate ancora qui Devo chiederlo tipo Ehi tu! Iscriviti! Meglio farlo subito Ti è piaciuto!